Un'altra cosa su cui poter guadagnare online sono le operazioni di crowdfunding, in questo momento prese dal mercato scandinavo stanno spingendo questo tipo di operazioni, quindi il mercato del crowdfunding è un mercato interessante, quindi c'è un vecchio modello che è quello della banca, la banca ci mette dentro i soldi, la banca fa tutte le sue cose, dà i soldi, finanzia le aziende e noi ci li dà lo zero virgola qualcosa. Ecco, questo modello sta cambiando perché grazie alle aziende fintech e grazie alla tecnologia si può saltare il mediatore della banca e si può fare in modo che il nuovo modello possa far guadagnare di più l'imprenditore, possa far guadagnare di più ed essere più veloce il progetto di crowdfunding e la piattaforma di crowdfunding può guadagnare dei soldi. Il crowdfunding che cos'è? È un finanziamento collettivo, è un processo collaborativo in cui un gruppo di persone che utilizza il proprio denaro in comune per sostenere un progetto. È un pratico esempio di microfinanziamento dal basso che mobilita persone e risorse, quindi io magari che non ho grandissimi capitali e che potrei solo lasciarli in banca e farmi il segno della croce, posso invece utilizzarli all'interno di piattaforme di crowdfunding per fare in modo che il mio denaro potesse lavorare di più. Ci sono due tipi di crowdfunding, quelli che vengono chiamati equity crowdfunding e quelli che vengono chiamati lending crowdfunding. Chiaramente sono due tipologie, la prima tipologia è quella dove siete soci ed è quella che consigliamo caldamente perché se no diventate soci direttamente dall'azienda vi prendete tutti i rischi e tutti i pericoli della partecipazione all'utile e alle perdite. Invece quello che noi vediamo come investitore passivo che va online è quello del lending crowdfunding, cioè l'azienda passa attraverso uno scrutino della banca e della piattaforma di crowdfunding, la banca dà dei soldi a questi investitori e la piattaforma di crowdfunding si accoda e fa da co-investitore. Quindi lo screening, la paura, le cose, oddio non funzionano, fa tutto la banca. Quindi una volta che un'operazione di crowdfunding è scrutinata dalla banca, è scrutinata e fine della fiera. Quindi attenzione, attenzione che un progetto di crowdfunding non vi può dare lo 0,5 al giorno. Quindi questi si chiamano high yield investment program, sono programmi truffe che vi danno delle cifre gigantesche, non avete il controllo dell'investimento, non sapete dove vengono fatti, vi vengono raccontate delle cose, di solito vengono sparati, vengono sparati in paradisi fiscali e poi ciao. Invece le piattaforme di crowdfunding, come ad esempio questa piattaforma che si chiama Bridge Asset, che opera in Italia, è una società vigilata. Quindi vuol dire che è una società che ha preso un'autorizzazione dalla Banca di Francia e quindi vuol dire che in Europa è autorizzata a proporre operazioni di crowdfunding. Quindi la prima operazione che è stata proposta ad agosto ha raccolto 704 mila euro da un centinaio di piccoli investitori e adesso propone una seconda operazione che è a Bustarsizio, è un'operazione molto interessante che ha un rendimento del 10,79%. Quindi andatevelo a vedere, andate su bridgeasset.it, compilate il modulino e caricate i vostri documenti e le operazioni partono da un minimo di 500 euro. Quindi da 500 euro in su, diciamo mediamente abbiamo investitore di 50 mila, 100 mila, ma anche l'investitore da 5 mila, 7 mila. Però legalmente potete partire a fare un investimento da 500 euro in su per incominciare a fare in modo che i vostri soldi fruttino.